carissimi pace buona giornata grazie a dio siamo ancora insieme questa mattina sono le sette del mattino oggi è 30 marzo e leggiamo nel vangelo di giovanni al capitolo 12 leggeremo con aiuto del signore i versi da 20 fino a 24 sono dei versi nei quali ci soffermeremo soltanto su due espressioni che ritroviamo innanzitutto la richiesta che viene fatta da parte di alcuni greci vale a dire signore vorremmo vedere gesù e poi la verità che viene espressa da parte di cristo al verso 24 se il granello di frumento caduto in terra non muore rimane solo ma se muore produce molto frutto innanzitutto il desiderio che viene manifestato da questi greci vorremmo vedere gesù sicuramente questi greci avevano sentito parlare di gesù avevano sicuramente incontrato persone che gli avevano raccontato delle opere potenti che il signore aveva compiuto ed è possibile anzi molto probabile che i discorsi stessi del signore erano stati riferiti a questi greci e queste persone erano evidentemente rimaste attratte da quanto era stato raccontato sia per le opere compiute sia per le parole dette e allora manifestano un desiderio vale a dire quello di poter vedere il signore che significa che desideravano incontrarlo ed è bello questo quando nei nostri cuori c'è questo sentimento vale a dire vedere il signore incontrare quindi ancor prima il signore certo per noi non si tratta più di accostarci a un uomo di carne ed ossa come avvenne per quei greci perché oggi sappiamo gesù essere sì vivente ma non più con le sembianze che aveva duemila anni fa egli è vivente ed è presente in spirito e verità laddove due o tre si riuniscono nel suo nome e allora se vogliamo vedere gesù se vogliamo incontrare gesù dobbiamo imparare a riunirci nel nome del signore ci sono tante riunioni tanti incontri che noi facciamo nell'arco della giornata ma c'è un incontro particolare al quale non vogliamo rinunciare ed è l'incontro con nostro signore ripeto in spirito e verità un incontro che possiamo realizzare anche personalmente nel momento in cui cioè decidiamo di serrare l'uscio della nostra cameretta e nel segreto invocare il signore per poter presentare la nostra vita spandere il nostro spirito adorarlo lodarlo benedirlo celebrarlo per tutto quello che ci ha dato incontrare gesù è la cosa più bella più bella che possa accadere nella vita di un credente la cosa più bella che possa accadere nella vita di un uomo forse tra quelli che mi stanno ascoltando c'è qualcuno forse più di uno che non ha mai avuto questo desiderio vale a dire di vivere una relazione intima spirituale col signore magari per te finora dio è stato soltanto una religione un qualcosa di lontano di sconosciuto o con il quale non hai nessun rapporto personale se non una semplice devozione formale e formale e religiosa quello che ti voglio dire è che tu stamattina puoi fare un passo oltre vale a dire puoi avanzare verso la presenza di dio implorare che egli si manifesti nella tua vita e poter così conoscere chi è gesù veramente chi è lì dio che ti ha creato che ti ha formato chi è lì dio che ha dato il suo nigenito figlio affinché tu possa essere salvato potrei fare l'esperienza di job il quale alla fine della sua malattia poter dire nel parlare col signore prima avevo sentito parlare di te ora l'occhio mio ti ha visto sì perché una cosa è sentire parlare di gesù una cosa è conoscere gesù e io credo che tutti quanti noi vogliamo conoscere ogni giorno sempre di più il nostro amato salvatore gesù cristo e gesù dirà tra le altre cose quell'espressione che vi ho citato prima il verso 24 cioè in verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore rimane solo ma se muore produce molto frutto di cosa sta parlando qui il signore parla di quella che la morte al peccato la rinuncia al peccato che è alla base poi della vita cristiana e del portare frutto per la gloria di dio il signore infatti è scritto in giovanni 15 ci ha costituiti affinché come credenti portiamo frutto e quando parliamo di frutto naturalmente non ci riferiamo ai prodotti ortofrutticoli ma parliamo di qualcosa di diverso l'apostolo paolo o ad esempio menzionerà i frutti dello spirito che sono qualcosa che si devono manifestare nella nostra vita questi frutti sono nove e si trovano in galeti a capitolo 5 verso 22 sono amore gioia pace pazienza benevolenza bontà fedeltà mansuetudine autocontrollo sono frutti che si manifestano quando noi camminiamo per lo spirito sono frutti che devono esserci nella vita dei credenti e devono esserci non in modo saltuario ma in modo permanente e abbondante e affinché questo sia possibile dobbiamo far sì che la nostra natura peccaminosa sia crocifissa insieme a cristo dobbiamo far morire le opere della carne che sono fornicazione impurità dissolutezza idolatria stregoneria inimicizia discordia gelosia idia ira scusate contese divisioni sette invidie ubriachezze oggi e altri simili cose dobbiamo far morire tutto questo affinché possiamo vedere nella nostra vita svilupparsi il carattere del nostro amato salvatore gesù cristo a noi la scelta possiamo decidere di continuare a vivere la nostra vita religiosa e quindi abbinare al nome di gesù sulla nostra bocca dei sentimenti malvagi nel nostro cuore non ci gioverà nulla se non ad attirarci la condanna di dio oppure possiamo decidere di dire signore io voglio crocifiggere tutte queste cose che sono contrari alla tua volontà che ancora abitano nel mio cuore che mi hanno influenzato e che mi stanno spingendo per sentieri sbagliati voglio che siano distrutti perché voglio portare buoni frutti per la tua sola lode gloria e se questo è il nostro desiderio possiamo avere la certezza che dio ci aiuterà ci aiuterà a vincere contro noi stessi a vincere contro la nostra vecchia natura per poter vivere in poter camminare scusate in novità di vita e portare frutto per la gloria di dio scegli la via dello spirito e vedrai che il tuo presente il tuo futuro sarà benedetto sarà ripieno della gioia che viene dall'alto e il signore non mancherà di sostenerti e benedirti ed aiutarti durante il cammino della tua vita possa la grazia di dio accompagnarti in questo giorno e la sua presenza essere al tuo fianco dio ci dia intelligenza e sapienza in ogni cosa la pace del signore sia con tutti quanti noi